La vacanza, no, sono visti l'era lontano, per l'inverno vado a riuscire a vedere uno sport, e anche il gestito, no, ma è un ritiro della pubblicità, no, è un'attività, no, è un'attività. Ma che giusto, non so, 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 non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so.